Ma se vi dicessi che ho già fatto questo video vi ho già ringraziati tutti ma la fotocamera ha deciso, anzi no non la fotocamera, il computer ha deciso di non registrare lo schermo e ho tipo tutta la clip solamente che non ha minimamente senso se non c'è neanche un qualcosa di video che fa vedere che effettivamente li sto leggendo sul serio ma ci credereste che adesso li sto per ripetere tutti quanti voi iscritti fantastici di nuovo? Ecco io no però vabbè fidatevi cioè non ci crederei però mi fido ecco quindi oggi cosa facciamo vi voglio ringraziare tantissimo per i 2000 iscritti ma non ringraziare così a muzzo prendiamo tutti gli iscritti che ho la possibilità fisica di vedere su youtube perché youtube se ne rende disponibile di vedere solo una certa parte inoltre se voi mettete il profilo privato io non posso proprio vedere di principio il vostro profilo però alcuni li possiamo vedere quindi ringraziamo tutti i fucking che posso vedere direi di iniziare tutti i grazie che non riesco a dire tipo non riesco a vedere i vostri profili dato che vi siete iscritti uguale direi che dico grazie e basta senza nome perché ho pure l'ho invento no non inventarlo quindi sì direi di iniziare quindi grazie a Dino Leva grazie a Gabriele Faini grazie a Paco03 grazie a Andia Lugesco grazie alla fanciulla grazie a Gianmarco is my life grazie a Eduard oppure Xo grazie a Giocherotto grazie a Andrea Belforti grazie a Antonio Scecchi però è brutta sta cosa perché prima l'avevo reagito in un modo fantastico cioè perché tipo non sapevo leggere i nomi quindi sono proprio uno scemo grazie a Andrea Belforti grazie a Antonio Scecchi grazie a Igor Beiu grazie a Salvatore Manca grazie a Luke Vance grazie a Antonio Jacopo Tramaglino che sarebbe il fratello di Coso di Renzo Tramaglino quello che conosciamo tutti purtroppo grazie a Philip Gamer09 grazie a RK Rack grazie a Dadax36 grazie a Christian DeMarco grazie a Francesco Monticone grazie a Kinder Gandhi Gandhi grazie a Martina Capicariello no no grazie a Martina Piccariello Piccariello chi è che c'è il famoso Piccariello vabbè grazie a Bugzin34 grazie a Pappe97 pepex97 grazie a 73 cantante grazie a Sabri Buscema grazie a Miro50 grazie a Lungamer grazie a Emma Fox grazie a Pasquale Iacono grazie a Taina Berni grazie a Stefano Porciani grazie a Stefano Porciani grazie a Alessandro Quartiroli grazie a Diego Bisonni grazie a Meredetta Gingalo Gingalo invenzione prima inventato in un altro modo grazie a Riccardo Milos grandissimo nome grazie a Rosa Rojas grazie a Dayashkp Youtube grazie a Juan Manuel grazie a Munkalia Sufian grazie a Aurelio Martino grazie a Cifo Franci grazie a Tomy04 grazie a Smrrma Life grazie a Davy Gamer de 1903 YouTube grazie a Massimo Nudi grazie a Romina Vitale grazie a Giovanni Bini che sarebbe il fratello di Giacomo Bini grazie a Mario Fiorillo grazie a Gitauro grazie a Gitauro grazie da Supreme grazie a Othman Butchioa grazie a Jacopo Mazzolini grazie a Chiara Scippacerola grazie a Alessandro 333 grazie a Anna Maria di Domenico grazie a Luca Apples grazie a Federica Ferrari grazie a Angelo Freda grazie a Michele Charquaglia grazie a Ludovico Stella grazie a Matt08 grazie a Matt08 grazie a Loppo grazie a Mike16 grazie a Leipisago grazie a TwoPlayerOneConsole Fanpage grazie a Daniele Porrocida grazie a Pasquale Benchis ben in casa cioè se ne sta bene in casa grazie a Riccardo Aprea grazie a NickPittsBest hashtag grazie a EmmaOfficial grazie a Andrea Venin grazie a Antonio Gaglianese grazie a Maurizio Galeone grazie a Mialpi grazie a fantastici grazie a fantastici amici e grazie a fantastici amici e amici di Brawl Stars grazie a Enrico Channel grazie a Suspacious Boss grazie a Maurizio Quaglieri grazie a UTCP Studio grazie a Lisa Fashion grazie a RedGamerTom grazie a Benedetto Raimondo grazie a Tommaso Rosa grazie a TheDacer grazie a Federica MacRini centesima grazie a FollowTheEinstein grazie a Mattia Ludano grazie a Samuele Cuni grazie a Andrea Romani grazie a Equipation Mia grazie a Sira grazie a Mr. Bonny Antonio grazie a Max MaxLinx99 grazie a FazeLory007 grazie a Simbag grazie a World of Pack 25 grazie a Maria Lucchini grazie a Phil Neville grazie from Kyle grazie grazie a Franco Spanduo grazie a Alessio Giuffreda eh sì però magari grazie a Franco grazie a Alessio Grugio grazie a CR Didani grazie a Salvox09 grazie a Reporter Italiano non mi piace il tuo logo grazie a Laidin grazie a Johnny Fox grazie a Marco Cascello grazie a Santo Spina grazie a Alessio Gentile cuo vado grazie da Suprima grazie a Matteo Borboli grazie a Matteo Borboli grazie a Antonio Pagano grazie a Hector YouTube grazie a Giuseppe Sant'Ano grazie a Ioris Falgari grazie a Checo Busco grazie a Paolo Guerrera grazie a Crill grazie a Dark Reeper grazie a Giuliel Connati Grazie Giulien Cognata Grazie Alessandro Cannato Bellissimo cognome Grazie Marcelo Rios Grazie Pietro Costanzio Grazie Fit089 Grazie Peter Pan Grazie Silvia Rossi Grazie Leier Grazie Mirko Capogreco Che sei figo se non sbaglio Grazie ChiuA78 Grazie Brian Ciccio Grazie Lucio Formile Grazie Marcello Nisi Grazie Tommaso Ghiasconi Grazie Marco Rizzato Grazie Cristian Morello Grazie PCProxTV Grazie Malik06 Grazie Alexpin Grazie Connessionato Puro Grazie Aldo Di Sommaso Grazie FKMasa La 07 Bravo Grazie Sanderbushin01 Basta forca puzzola Grazie Skanderbushin Grazie Nui Grazie Ann Esposito Grazie Alessandro Roberto Grazie Andrea Laporta Grazie Andrea Laporta Tuo padre Giacomo Laporta Grazie Giuseppe Sereni Grazie Tony Lupo Grazie Dossi Sksk Grazie Pumal Energy Grazie Pinko Pallino Grazie Giancilo Consoli Grazie Annie The Best Grazie Checco Francesco 7 Checco il modello Grazie Paolo04 Grazie Andrew Desogus Grazie Dodi Pez Grazie Domenico Beraldi Grazie Pietro Pigna Grazie Liquid Mod Grazie Danny Trevino Grazie Medisa Meme Grazie Gabriele Cataldi Grazie Uomo Benten Fantastico nome Fantastico nome Fantastico programma Grazie Silvia Consigli e Ricette Grazie Marquez Marchez Ok Grazie Gix Lennon Gix Leon Grazie Andrea Beata Grazie 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 Capitano Sciroppo Grazie Lorenzo 1402 Grazie Rosario Quello Game Ok Grazie Tartarugamer26 Grazie ProGamer Grazie Anonymous Tomorrow Grazie Checco Play Grazie Martin Grazie Vincent FVP Grazie Boss07 Grazie Martinoj Grazie a Martinoje, grazie a Valerio Luciani, grazie a Paolo Castiglione, grazie a Massira, grazie a Italione, grazie a By The Way Lorraine, grazie a Fabio E.G. Informatica, grazie a Marcos Music, grazie a Irene Vanacore, grazie a Luca Pedron, grazie a Dragon57990, grazie a Marcom, grazie a Dude Sperfect, un nome fantastico, grazie a The Big Must, grazie a R6 Luca Team, grazie a Dracon Team, grazie a Red Shark, grazie a Arsenal07, grazie a Tony Cazzotto, grazie a H1 Mongreal, grazie a Elena, grazie a Standard Skill, grazie a Chiara Marrappa, grazie a Nick, sì ma devo schiacciare, grazie a Nick 2009, grazie a Mondo Tennis, grazie a Warm Samuel 20, grazie a Ninja di Brescia, grazie a Antonio Manegras, grazie a Tumi Pappi YouTube, grazie a Alessandro Lodi, grazie a Marzia Makoso, grazie a Cobrux, grazie a non so chi sono, ma penso un po' quanto non so io, grazie a Valerio Puglia, grazie a FM, grazie a Mircus Griecus, grazie a The King, grazie a Pippa Pippo, grazie a Pippa Pippo, fantastico, grazie a The King 0908, grazie a Lady Puppetta, grazie a Pupi 970, grazie a Viciatì, ok, fantastico, abbiamo finito i nomi purtroppo, perché se tipo io provo a ricaricare la pagina, come potete vedere non c'è scritto tipo guarda altro, quindi Dio santo io volevo salutarvi tutti, anche se tipo sono distrutto mentalmente, perché vi ho salutato due volte a testa, tipo, quindi sì, due volte, cioè di solito la gente prende una clip e la ripete e la ripete e la ripete, io invece prendo, io invece ne registro di più e poi ne carico meno, ovviamente, vabbè, geniale, geniale, prima avevo detto un po' di grazia, facciamo finta che ne ho detti 100, sì, facciamo finta che, ok, allora, vi ho ringraziato due volte, quindi, dato che tipo le ho dette due volte 240, facciamo che siamo a 500, mi sembra fantastico, e ora che si chiudica, ok, Ok, direi che possiamo Continuare Grazie, 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 grazie. Basta facciamo la versione normale per favore Ma c'è solo l'inglese? Non lo so Andrea Ricci Allora Basta grazie 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 gra Grazie 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 Ranzi carazzi, ranzi carazzi No, cioè io Volevo dirti veramente dal profondo del mio cuore In un modo non ripetitivo Grazie Grazie, 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 grazie No, basta Lo sito Ma grazie, 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 Favamo un po' sentire una canzone Grazie, grazie Grazie, grazie, grazie Grazie, grazie, grazie Grazie No, questa è troppo lenta Grazie, grazie, grazie 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 Grazie, 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 grazie, grazie Grazie, grazie, grazie 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 gra Grazie 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 gra grazie 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 gra Grazie No, basta Grazie, 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 grazie Grazie, 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 grazie Grazie, 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 grazie Prendiamo un metronomo Non c'è un metronomo Ok, niente musica Grazie, 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 grazie 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 gra grazie 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 gra Grazie, 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 gra Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 gra Grazie, 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 gra Grazie, 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 grazie Accipicchia Che abilità sensore, eh? Grazie, 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 grazie. perché tipo finisce la carica dopo mi rompo un po le palle Grazie 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 gra grazie 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 gra Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie 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 Grazie, 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 gra Grazie 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 Ricordati di lasciare un like e di iscriverti Se vuoi vedere un altro video del genere Così almeno possiamo fare Qualcos'altro nel futuro? Non lo so vediamo Se sono fisicamente pronto potrei farlo Anche nel futuro non lo so Grazie 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 anche a te Grazie 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 Teoricamente questo ultimo grazie Sareste Non lo so volevo dire qualcosa di filosofico Poi volevo dire il nome di una persona Però poi basta su Grazie Ah duemila grazie Hai visto quanto abbiamo fatto veloce? 33 minuti Sono fisicamente depravato